Il Consiglio regionale approva in ritardo i bilanci dei parchi di San Rossore e delle Apuane. La maggioranza guarda il futuro con ottimismo ma l'opposizione chiede un cambio della governance. Emergenza, urgenza e crisi, Fratelli d'Italia propone la riorganizzazione del servizio ma il PD risponde picche. Riomaggio 1946, il disastro ferroviario dimenticato, il libro del Consiglio regionale per recuperare la memoria di uno dei più gravi incidenti nella storia della Toscana. Inaugura il prossimo 22 aprile la prima retrospettiva dedicata all'artista Marco Borgianni. Appuntamento a Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio. Via libera dal Consiglio regionale ai bilanci dei parchi di San Rossore e delle Apuane, seppur con oltre un anno di ritardo. L'Assemblea Toscana ha infatti approvato l'esercizio 2021 dell'ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli con 20 voti favorevoli e 10 contrari. Iter simile per il conto economico 2021 del parco delle Apuane, approvato con 22 voti a favore e 11 contrari. Pur prendendo atto del ritardo, la maggioranza si è soffermata sugli aspetti positivi emersi dall'esame dei bilanci, a iniziare dalle potenzialità da sviluppare a San Rossore. Un bilancio che chiude inutile segnala, credo, già un primo cambiamento di passo, perché se leggiamo le cifre, i dati del bilancio, vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del parco, attività agricole, zootecniche, e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel parco si sviluppano è aumentato. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate. Credo che la Presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità, quello di cui c'è bisogno, perché il parco è un bene di tutti, è vero, ha un pregio anche naturalistico, ambientale, e questo va protetto, però è anche un patrimonio che può essere maggiormente fruito dai cittadini, dalle persone. Un altro elemento, l'ippodromo fra l'alto di San Rossore, è l'unico in Italia che insiste in un parco naturale, appunto, e quindi è un esempio per dire di quante opportunità ci possono essere per rafforzare, ecco, farlo conoscere ancora di più utilizzando anche il patrimonio immobiliare che, ahimè, in questi anni, in questi decenni passati è stato poco utilizzato e poco valorizzato, quindi c'è tanto lavoro da fare, ma mi sembra che, ecco, la Presidenza Bani abbia dato un impulso nuovo e la Regione sostiene ovviamente con forza, con convinzione, insieme ai comuni che abbracciano la realtà del parco queste nuove iniziative. Completamente diverse le valutazioni dell'opposizione, che ha evidenziato numerosi elementi di criticità nella gestione dei parchi regionali toscani. La situazione dei tre parchi regionali non ci soddisfa per niente, anche il parco della Puane, per stessa ammissione del direttore, ha le risorse appena sufficienti per, cito testualmente, la mera sussistenza della struttura. Non c'è un piano che guardi al futuro, ci sono grandi difficoltà sotto il profilo degli investimenti realizzabili e questo naturalmente mette in difficoltà non soltanto l'aspetto della promozione e della valorizzazione di territori comunque straordinari, ma anche, per esempio, la capacità del Consiglio di capire fra gli obiettivi e i risultati che il rapporto c'è. Non si capisce quante persone stanno andando nei parchi, quali servizi trovano, come questi si pongano, diciamo, a livello nazionale all'attenzione di tutta la nostra popolazione. Quindi il nostro è un giudizio negativo che non colpisce naturalmente la struttura in quanto tale, di cui è apprezzabile anche lo sforzo, ma colpisce invece la Regione che si sciacqua la bocca a parole di investire sull'ambiente, ma che in realtà nella sostanza sta lasciando i parchi morire lentamente senza un coordinamento fra loro. Sempre secondo la minoranza i problemi dei parchi regionali sono gli stessi da anni, proprio come le figure apicali incaricate della loro gestione. Diciamo sempre le stesse cose, arriviamo sempre in ritardo, viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione, vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona. Quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Ecco, sono cose che dovrebbero essere approfondite, sicuramente la regione toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi, dovrebbe veramente porci un pensiero, una attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli, perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi, e quindi bisogna prendere una decisione. O si finanziano o si cambiano le persone, perché qualcosa vuol dire che non funziona. Anche sul parco delle Apuane io avrei tante cose da dire, perché quando ci sono sempre le stesse persone a gestire il parco, io sono andata anche a fare un sopralluogo, non mi sono stati dati i documenti, l'atteggiamento è quello di chi gestisce qualcosa di proprio, invece con bene pubblico, io credo che questo dovrebbe portare la regione toscana subito a un rapido cambiamento delle figure apicali. Il confronto sulle criticità dei parchi toscani ha portato quindi le forze di opposizione a chiedere un ripensamento dell'intero sistema, ma il dibattito ha fornito anche l'occasione per una riflessione su quanto accaduto nella campagna intorno a Lucca, dove una donna è stata ammorsicata da un lupo. Il gruppo della Lega ha messo in evidenza il fatto che forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato e probabilmente ragionare su una governance che possa gestirli tutti quanti, anche con differenziazione di impegno economico, perché evidentemente siamo di fronte a parchi che hanno caratteristiche e anche un'ampiezza differente. Mi fa piacere fare un ultimo rilievo che è quello che è un pochettino all'ordine del giorno sulle cronache e che abbiamo discusso insieme al Presidente Bani durante l'audizione in Commissione Quarta e che è l'apparizione del lupo alla Bufalina, quindi molto vicino al territorio del lago e che ha preoccupato la popolazione non poco. Malgrado le rassicurazioni oggettive del Presidente Bani, in ordine al fatto che i lupi che sono sotto gestione del parco, ben undici, sono sostanzialmente controllati attraverso delle cosiddette fototrappole, però è evidente che invece quanto è accaduto, gli animali ritrovati, aggrediti da parte del lupo, evidenziano che c'è un altro animale probabilmente che è sul territorio e che potrebbe dar luogo a non poche problematiche. Su questo il gruppo regionale della Lega, proprio la settimana scorsa, ha incontrato l'europarlamentare Alessandro Panza, che sul tema è sostanzialmente un'autorità e è intervenuto a più riprese in Europa e anche sul territorio nazionale e stiamo lavorando proprio per far sì che la legislazione che riguarda il lupo trovi degli equilibri diversi per far sì che la proliferazione del numero di questi animali possa essere invece limitata in modo da evitare situazioni di aggressione che si sono verificate anche in più occasioni qui in Toscana come per esempio, oltre che al caso che ho citato adesso, nella retina. Non ha raccolto i voti necessari all'approvazione la proposta di risoluzione per la riorganizzazione dei pronto soccorso presentata al Consiglio regionale da Fratelli d'Italia. Secondo il partito d'opposizione, dalla mancanza di posti letto alla gestione dei codici bianchi, sono tanti fronti su cui si potrebbe intervenire sin da subito per migliorare il servizio. Noi riteniamo che alcune cose possono essere migliorate immediatamente, pensiamo per esempio che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre, tre giorni e mezzo in una barella in un corridoio e già non andrebbe bene. Ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi. Senza acqua, senza cibo, perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso, evidentemente bisogna chiambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare gli ambulatori per i codici bianchi nei pronto soccorsi. Una percentuale importante di accessi ai pronto soccorso è per codici bianchi comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Noi pensiamo che nella proposta di risoluzione che il Fratelli d'Italia ha presentato oggi in aula ci siano tante risposte all'emergenza della sanità toscana, all'emergenza della crisi dei pronto soccorsi. Purtroppo la maggioranza, parte della maggioranza, ha votato contro. Abbiamo apprezzato il voto di astenzione Italia Viva. Ci dispiace che il Partito Democratico voglia sempre mettersi una sorta di benda davanti agli occhi e bocciare le proposte che vengono dall'opposizione. Noi continueremo a fare opposizione non soltanto criticando ma facendo proposte concrete. Una bocciatura arrivata nonostante gli emendamenti presentati dalla Lega e accolti da Fratelli d'Italia. Noi avevamo inserito degli emendamenti di buon senso sostanzialmente. Le motivazioni della bocciatura sono risibili, sono politiche. Di fatto noi, per quanto mi riguarda nel mio intervento, ho voluto mettere all'attenzione dell'Aula l'attuale situazione critica in cui si versa l'emergenza urgenza, sia l'emergenza urgenza ospedaliera, quindi il pronto soccorso, sia l'emergenza urgenza territoriale, cioè se non si aumenta gli operatori, se non si cerca di fare da filtro, come un emendamento che abbiamo voluto fare noi, al pronto soccorso e quindi, fino a che non ci sia una medicina territoriale che fa da filtro, mettere un dipartimento ambulatoriale che intercetti i codici 4 e i codici 5, cioè quelli non urgenti e in urgenza diciamo codici bianchi, automaticamente avremo sempre una situazione drammatica perché il collo di bottiglia del pronto soccorso è evidente. Questo determina un burnout sugli operatori perché sono pochi, perché sono sotto pressione e quindi ovviamente questa situazione è arrivata al collasso. Il PD ha espresso apprezzamento per il lavoro della minoranza pur confermando il suo voto contrario. La proposta di risoluzione che ha fatto il gruppo i Fratelli d'Italia, devo dire la verità, che è una proposta estremamente articolata ed è una cosa positiva che un gruppo consigliare di opposizione porti anche delle proposte fattive. Noi come gruppo del PD abbiamo proposto di portarla in commissione perché ovviamente alcune delle cose che sono scritte sono di pertinenza nazionale, alcune riguardano non soltanto il Ministero della Sanità ma addirittura il Ministero dell'Istruzione e altre invece sono cose che già esistono. La nostra proposta è di mandarla in commissione magari con audizioni anche perché la Giunta regionale sta mettendo in atto delle azioni che sarebbe bene capire quali sono e anche parlare con quelli che sono i direttori dei dipartimenti di emergenza e urgenza che conoscono chiaramente il problema. Non è stata accettata e quindi noi abbiamo bocciato la proposta di risoluzione perché alcune cose erano sicuramente accettabili, altre meno, altre erano magari da rivedere e quindi niente la proposta non è stata accettata ma non perché non apprezziamo il lavoro che è stato fatto ma perché all'interno ci sono cose per esempio parlavano dei letti di osservazione breve nei pronto soccorsi toscani che esistono da tanto tempo in tutti i pronto soccorsi sicuramente sgravano un attimo il paziente di stare sulla barella però purtroppo non sono sufficienti. Si intitola Il disastro ferroviario di Rimaggio 15 ottobre 1946 ed è edito dal Consiglio regionale della Toscana il libro di Fabio Zamponi dedicato all'incidente ferroviario avvenuto appunto nel 1946 a Rimaggio il più grave nella storia della nostra regione prima della strage di Viareggio. In 122 pagine l'autore rievoca la vicenda attraverso foto originali, documenti e testimonianze dirette. È una bella emozione e anche una cosa immigratifica perché questo incidente era stato tenuto nel dimenticatoio, era una cosa caduta nell'oblio e tutt'oggi non so spiegarmi perché fino a che non ho preso in mano questo lavoro nessuno sapeva niente di questa cosa neanche tra la popolazione locale e addirittura durante queste interviste di cui si compone il libro e lì c'è anche scritto quel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente era stato fatto con le macerie della casa dei miei nonni che i tedeschi avevano buttato giù in ritirata e neanche i miei nonni avevano mai tramandato niente, nessuno mi aveva mai parlato di questa cosa e questa è stata la curiosità e credo che debba essere una cosa da tramandare alle future generazioni questo fatto storico così grave. Una storia dimenticata, quella del disastro di Rimaggio, riscoperta grazie alla pubblicazione curata dal Consiglio regionale della Toscana e che deve essere conosciuta. Perché la storia deve essere conosciuta? Perché deve essere di monito a farsi che errori che purtroppo pagine dolorose come quella di Rimaggio non abbiano a ripetersi e che cosa possiamo fare per tutto questo? Fare squadra per obiettivi importanti quali quelli della sicurezza, del vivere senza le preoccupazioni, dello stare sereni, dell'essere al centro delle attenzioni e delle istituzioni. Noi stiamo facendo concretamente questo, lo stiamo facendo al di là delle sigle e dei colori e credo che sia un messaggio decisamente importante per la popolazione toscana. Quindi tutti insieme per ricordare una pagina terribile, persero la vita 12 persone, se ne salvò soltanto una, una bambina di 7 anni che racconta la sua testimonianza all'interno di questo libro. Siamo qui per far sì che appunto pagine come questa non abbiano a ripetersi. È una bella iniziativa questa presa oggi dal Consiglio regionale che vuol ricordare una strage, una strage che nel nostro territorio è molto sentita. Si tratta del secondo disastro ferroviario dopo quello di Viareggio che è avvenuto in Toscana. Che dire, credo che attualizzare quei fatti significa ancora di più mettersi insieme a lavorare perché la sicurezza dei cittadini, la sicurezza nelle strade sia uno dei nostri obiettivi. Insomma, grazie alle edizioni del Consiglio che questa storia viene a galla perché, come amo spesso ricordare, sono le piccole storie che fanno la storia anche del nostro territorio. Marco Borgianni, diario di un viaggio. È il titolo della retrospettiva che si aprirà il 22 aprile a Palazzo Malaspina, a San Donato in Poggio, nel comune di Barberino Tavernelle. L'esposizione vuole ricordare la figura artistica e umana di Borgianni, un artista particolarmente legato anche nelle opere alla sua Toscana. Una mostra che è un omaggio ad un artista che ha voluto rappresentare così bene il proprio territorio. Ringrazio il collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui poter presentare questa bella mostra che avrà luogo a Palazzo Malaspina nelle prossime settimane. Investire in arte, investire in cultura vuol dire investire in libertà e quando arte e cultura riescono a rappresentare il proprio territorio vuol dire investire in libertà e in identità e credo che questo sia il senso più importante di questa mostra. E poi i legami familiari che si uniscono, il figlio che oggi è anche il curatore della mostra, un territorio che accoglie queste opere. Insomma c'è tutta la bellezza della nostra terra e quindi spero davvero che sia una mostra molto visitata e che arrivi al cuore delle persone. E proprio la famiglia dell'artista ha un ruolo centrale in questa mostra. Allora è stata una cosa molto emozionante naturalmente essendo il figlio e quindi ho curato la mostra fin dall'inizio, ho curato la mostra e il libro e ripercorso un po' tutti i periodi perché la mostra in qualche modo si suddivide in cicli, quindi si parla non solo di sculture che è stata una parte molto importante dell'arte di Babbo, però anche tutti i vari cicli che vanno dal 1990 ad oggi fino ad arrivare a Dei d'eroi che è l'ultimo ciclo che in qualche modo è il ciclo più importante che è quello che l'ha consacrato un po' anche come artista. Una mostra che celebra Borgianni e la sua terra d'origine. Non è senza commozione che siamo qui appunto a dare il via a una grandissima esposizione che riguarda l'attività e la vita artistica del maestro Borgianni. Un artista, un cittadino di Barberino Tavarnelle che ha speso la propria vita nella ricerca del bello, nella ricerca delle sperimentazioni dei linguaggi più vari di tutte le forme artistiche che hanno reso conto di quella che è la sua profondità sia della sua anima artistica ma anche delle bellezze del nostro territorio. Un artista che ha guardato a tutto tondo e che non poteva non trovare nella nostra cordoglia, nella nostra ammirazione per la sua opera e per la sua vita spesa anche per gli altri insieme alla sua dedizione per l'arte, una grande personale e una grande rassegna appunto nel prestigioso Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio. Per questa edizione è tutto. Potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it